Lo sai adesso quando è cascato quel ponte, quante volte ci sono passato sopra quel ponte? Centinaia di migliaia di volte, perché se vedi da lontano, tu lo vedi quando arrivi a San Pierdarena, già lo vedi, perché questo addirittura passava sopra le case arte dei sette piani, ma ti rendi conto dove passava? Lo sai che lì c'è un vento terribile a Genova, specialmente d'inverno, ma lo sai che questo viadotto faceva così? Io ho detto, ma che mi girava la testa? Io ho chiesto, perché c'era un parente di Anna che era architetto, diciamo un cugino di un'altra famiglia, comunque, e questo era un architetto, gli ho chiesto, dice no, non può essere rigido il ponte, se no casca, se deve muovere il ponte, è fatto apposta. Questo, ma sai che c'era, stavi così, sai che vuol dire che stavi così, che camminavi così dal vento che c'era? E poi quando ho sentito che è cascato, io sono rimasto così male a quel ponte, ma se tu pensi che poi il fiume, che chiamano il fiume Polcevera, c'è un filo d'acqua, non c'è niente, e tu pensa che d'estate, tu attraversi il fiume, perché c'è niente, l'unica cosa che c'è so, come si chiama, questi fiori gialli che c'è sta pure sulla deverina, è pieno di fiori gialli, capito? C'è niente, sono tutti serci, tutta acqua del fiume così, poi dopo, siccome questi stronzi di Genova, poveracci, non hanno la terra, che hanno fatto, hanno chiuso tutti i fiumi, Genova c'è il mare, poi c'è l'Aurelia e poi c'è la montagna. Grazie. Grazie. Grazie.